Un bel medagliere, vai! Prima gara sarà ai 100 metri, fa Piaretto Nano. Chi arriva prima alla Fogna, vicino alla ferrovia, vince ai 100 metri. Pronti? 3, 2, 1, vai! Nessuno di noi lo ha seguito. Corre troppo forte, Piaretto Nano. E siccome correva a volta indietro a guardare essere femminile, lo guardava, no? Non si è fermato in tempo. E ha detto che andava dritto a casa a cambiarsi. Auguri! In certi casi ti fanno fare il bagno prima del sabato, ma l'acqua che consumi la paghi, cara. Alla fine abbiamo deciso che era meglio fare il lancio del cevellotto, che è l'unica cosa che non ci si fa male di solito. Abbiamo preso le cani da guerra, le più dritte che avevamo, che si trovano al lachetto delle cave, che è in fondo alla pianura. È pericolosissimo. E le mamme non lo sanno, ma certi ci nuotano anche. E hanno detto che là ci sono dei pesci, che si chiamano tutti col stesso nome, Lucio. E sulla riva ci sono giornali sporchi, perché i sporcaccioli vanno sul lachetto delle cave a fare porcherie. E poi fanno i giornali, tutti i tocchetti per terra, li lasciano là e noi non li tocchiamo perché sono sporchi. Il dritto è d'è qua. E questo va là. Credo sola. Adesso se te lo ricordi, fai impressa, vieni qua e vieni a ricordartelo tutto intero. Una riva, l'ho avuto per anni una visione cubista del sesso.